Oh, allora, è da tempo, da un po' di tempo, che ho voglia di parlarvi, di consigliarvi, se si può dire così, tre libri. E poi, dopo che ho parlato di questi tre libri, vi dico brevemente perché ho scelto questi tre libri, anche se penso che poi si potrà capire abbastanza facilmente. È da tempo che ci penso, perché sono tre libri, secondo me, molto importanti. Non in quanto lettura in assoluto, ma per capire il nostro tempo, diciamo così, è una frase molto grossa, per capire il nostro tempo rispetto soprattutto alla politica estera, soprattutto al discorso dell'immigrazione, della cosiddetta accoglienza, dei cosiddetti respingimenti, eccetera, dalla cosiddetta immigrazione, diciamo così. Sono tre libri non di oggi, non usciti oggi, addirittura sono tutti usciti tra il 2007, il 2011, il 2012, ma sono più che attuali, molto più che attuali. E secondo me, per saperne qualcosa di più, non solo e non tanto da un punto di vista giuridico e tecnico, che comunque non fa male, perché anzi ci servirebbe molto, visto che tutti i giorni abbiamo sulla bocca questi argomenti, che ne pensiamo, che ne pensiamo in un certo modo o in un altro, che siamo per l'accoglienza, che siamo per i rispingimenti, che siamo per i porti aperti, i porti chiusi, ammesso che vogliono dire qualcosa queste cose, queste affermazioni. Ne sappiamo sempre poco di questo argomento, come di quasi tutti quelli di cui parliamo, poi normalmente. Si fanno quelle che chiamo io le chiacchiere da bar, che oggi sono sostituite o sono affiancate dalle chiacchiere da social o da Facebook, ma spesso e volentieri appunto. Che ne pensiamo, ne sappiamo poco o addirittura a volte non ne sappiamo nulla a sentire certe chiacchiere. Ecco, leggere questi tre libri secondo me ci può aiutare un pochino ad avere un po' più chiara, non dico chiarissima, ma un po' più chiara, una faccenda, ma soprattutto ci aiuta a capire che il presente, e questo i libri ci dovrebbero sempre aiutare a capire questa cosa qui, il presente non è il più di tutto, mi spiego meglio. Quello che sta succedendo oggi non è in positivo la cosa migliore che sia mai successa, o in negativo il periodo peggiore che stiamo vivendo. Queste sono impressioni che spesso abbiamo per via delle emozioni, che sono umanissime, che sono più che comprensibili, ma non sono sufficienti a capire che cosa sta succedendo, che cosa semmai anche è successo. E soprattutto diventa pericoloso se ci facciamo dettare solo dalle emozioni, perché le emozioni sono giustissime in quanto tali, ma possono essere anche molto errate. Allora, cominciamo subito. Sono tre libri che non sono tre romanzi, sono scritti da tre persone diverse, sono tutte e tre italiane, le persone e gli autori. Purtroppo, nonostante tutte e tre gli autori siano molto giovani, due di costoro non ci sono già più. Il primo è Alessandro Leogrande. Il primo titolo in questione è, direi, del 2007. Si intitola Il naufragio. Alessandro Leogrande è stato giornalista, è stato reporter, si è occupato molto di migrazione, come di letteratura, come di attualità, ha collaborato con Il Fatto Quotidiano, ha collaborato con altri giornali, è stato vice direttore, se non ricordo male, collaboratore, credo anche molto amico del grandissimo Goffredo Fofi, è stato vice direttore dello straniero, una rivista gloriosa, che oramai anche la rivista non c'è più, da poco tempo, è durata circa vent'anni, ed è stata gloriosa perché, secondo me, è una rivista che parla di cultura, che parla di letteratura, che parla di attualità in Italia. In questi anni, in questi ultimi vent'anni, bisogna avere fegato a metterla in piedi, bisogna avere coraggio e bisogna avere anche la capacità, pur con molte difficoltà, di farla vivere per almeno vent'anni, e così è stato. Le difficoltà poi hanno portato alla chiusura un anno, un anno e mezzo fa circa, dello straniero. Leo Grande lavorava appunto come vice direttore, oltre a tante altre cose, lavorava come vice direttore dello straniero. Il libro, Il Naufragio, è il reportage, la cronaca, di uno dei fatti più gravi che sono successi nel Mediterraneo, tra i tanti purtroppo. Un fatto successo la sera del 28 marzo del 97, era il giorno di venerdì santi. Quella sera, una barca, un'imbarcazione albanese, che proveniva dall'Albania, all'epoca c'era la guerra in Albania, e si scappava proprio per quello. Un'imbarcazione che si chiamava la Cateri Rades, con la picco, nel canale d'Otranto, nel mar Mediterraneo, e nello specifico nel mare Adriatico. Con la picco però non per caso. Con la picco perché viene inseguita, e viene speronata, da un'imbarcazione della Marina Militare Italiana. L'imbarcazione italiana si chiamava la Sibilla. viene inseguita, viene speronata, perché anche allora, nel 97, iniziavano quelle che si chiamano, si definiscono le politiche di respingimento. Ecco, una delle cose che dicevo prima, non esistono oggi respingimenti, non esiste soltanto oggi il farneticare di porti chiusi o di porti aperti. Purtroppo c'erano già allora. La Sibilla butta giù, sperona la Cateri Rades, la Cateri Rades va a picco, muoiono, se non sbaglio, 57 persone, esatto, e se ne salvano 34. La stragrande maggioranza sono donne e bambini, i morti. Leo Grande che fa? Fa il reporter, cerca di ricostruire la vicenda, cerca di ricostruire il processo che c'è stato in seguito a questo accadimento, processo che è stato depistato, alcune prove sono state cancellate, ci sono state intimidazioni verso i giudici che hanno lavorato verso questo processo, e alla fine questo processo non ha prodotto altro che una piccola condanna per il capitano della Sibilla e per il timoniere della Cateri Rades, che è l'imbarcazione albanese che è andata a picco. Leo Grande ripercorre questa vicenda squallida e bruttissima e lo fa andando fino in Albania e mettendosi in contatto anche con le associazioni dei familiari e in contatto direttamente con molti familiari delle vittime che ovviamente hanno cercato per quello che hanno potuto, vista anche la distanza, vista soprattutto la situazione sociale, la situazione familiare di molte di queste persone, le ha seguite, le ha conosciute, ha fatto anche da interprete in alcuni casi durante alcune sentenze del processo qui in Italia, processo che come abbiamo detto non ha portato quasi a nulla, perché alla fine condannare, tra l'altro, a pene non particolarmente gravi, il capitano di una nave e il timoniere dell'altra, serve, sì, serve, ma serve a poco, perché le grandi responsabilità, soprattutto in questioni di questo genere, non sono sul timone, sono molto a monte. Preme ad Alessandro Leo Grande, preme anche a me ricordare che durante quel, nel 97, durante questo fatto che è stato, all'epoca è stato il più grave, è successo fino allora, purtroppo ce ne sono stati anche di più gravi nel Mediterraneo, preme ricordare a me come premeva ricordare allo stesso Leo Grande che all'epoca c'era un governo di centro-sinistra e c'era Prodi al governo e questa cosa è molto importante ricordarla perché queste cose non sono secondarie e soprattutto, torniamo di nuovo al discorso che ho già accennato due volte, soprattutto ci aiutano a capire che forse il presente non è soltanto il peggio e il meglio di quello che sta succedendo, il peggio per il male e il meglio per il bene, ma è da inserire in un calendario, in una storia molto complessa e molto vecchia, come tutta la storia, come tutte le storie, è un calendario di eventi. E questo è il primo. Il secondo libro è scritto da un altro giornalista, un altro reporter italiano, per fortuna costui ancora vivo e vegeto, anzi, proprio in questi giorni ha pubblicato per l'editore La Nave di Teseo il suo nuovissimo libro, forse addirittura deve ancora uscire, che è sulla CIA, ma quello di cui vi voglio parlare io è un libro invece di almeno una dozzina di anni fa. Lui si chiama Fabrizio Gatti, è reporter per l'Espresso e ha scritto ovviamente tutta una serie di libri, ha scritto anche direi per altri giornali, e il libro in questione si chiama, si intitola Bilal. Chi è Bilal? Bilal è un nome di fantasia, è il nome di fantasia che si è dato lo stesso Fabrizio Gatti per fare, per realizzare questo reportage. Questo reportage è una cosa impressionante, perché Gatti all'epoca si è finto, è andato fino in Senegal, ovviamente appoggiato dall'Espresso, dal giornale che aveva alle spalle, ma appoggiato molto a distanza, perché capirete bene, adesso che vi spiego, non poteva essere altrimenti. Gatti è andato fino in Senegal, si è mischiato ai migranti, e in qualche modo si è fatto credere un migrante anche lui, e ha percorso assieme alle carovane, chiamiamole così, dei migranti che partono dall'Africa, dall'Africa subsahariana, come anche dall'Africa della Libia, dell'Algeria, del Marocco, eccetera, ha seguito i migranti, è stato in mezzo a loro, e il suo nome di fantasia, il suo soprannome era Bilal, è arrivato fino a Lampedusa, è entrato dentro Lampedusa, dentro il centro d'accoglienza di Lampedusa, è finito in mezzo ai braccianti nelle campagne del Sud Italia che raccolgono pomodori, e tutto questo l'ha fatto da solo, lo ha fatto facendosi credere appunto uno di loro, correndo i rischi che possiamo, direi, molto facilmente immaginare. Il viaggio è durato un'infinità di mesi, perché spesso ci dimentichiamo che gli sbarchi nel Sud Italia, come anche in Spagna o in Turchia o in Grecia, non sono la conseguenza di un viaggio durato una notte, un giorno, due notti, due giorni, ma sono la conseguenza di un viaggio durato qualche notte o qualche giorno nel Mediterraneo che segue di solito settimane o di solito addirittura mesi di viaggio in condizioni folli nel deserto dell'Africa appunto o dell'Asia, a seconda di quale siano le zone da cui provengono i migranti. Bilal è il risultato di questo reportage impressionante, scritto con uno stile quasi quasi da romanzo, ed è agghiacciante, perché naturalmente possiamo immaginare, io spero che lo possiamo tutti immaginare, e che non ci venga in mente che questi viaggi durino appunto un giorno o due, e che siano in prima classe. Questo viaggio è stato estenuante, è stato tragico, e le cose che racconta Gatti, alias Bilal, sono politicamente, socialmente e umanamente profonde, gravi, gravissime, e sono raccontate tra l'altro anche molto bene, anche questo libro ci fa riflettere moltissimo sulla condizione dell'Europa rispetto all'Africa e all'Asia, sulla condizione dell'Europa rispetto all'immigrazione, e sulle condizioni dell'Italia stessa, per prima, visto che Gatti, anche lui, è italiano, e delle politiche italiane di respingimento o meno, che negli ultimi appunto 20-25 anni hanno accompagnato questi fatti a cui oramai ci stiamo purtroppo abituando, perché i giornali, i telegiornali, le cosiddette trasmissioni di approfondimento, che di solito non approfondiscono nulla, ce le sbattono in faccia tutti i giorni, chi con uno spirito diciamo umanistico o progressista, chi con uno spirito brutale, di cinismo, appunto di respingimento, ma comunque quasi mai con, come dicevo all'inizio, una razionalità, una conoscenza, un vero approfondimento che potrebbe essere fatto, visto che le redazioni dei giornali, visto che le trasmissioni televisive avrebbero gli strumenti per farlo, ma naturalmente non hanno le motivazioni per farlo realmente. E quindi al limite si limitano settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, a fare questi stupidi sondaggi in cui chiedono agli italiani che ne pensa degli immigrati, che cosa ne pensa dell'accoglienza, che cosa ne pensa del respingimento, senza dare gli strumenti agli italiani, come si dice genericamente, per saperne qualcosa, quali che siano le idee che possono avere, ma se tu hai un'opinione, quale che sia, appunto, dovresti sapere qualcosa per avere quell'opinione. Passiamo al terzo libro, anche questo terzo libro è di una persona che purtroppo non c'è più, di uno dei più grandi, non famosi, ma uno dei più grandi, dei più importanti giornalisti, reporter che ha avuto questo paese, si chiamava Luca Rastello, io ho avuto anche la grandissima fortuna di conoscerlo, l'ho conosciuto marginalmente, per un'intervista qualche anno fa ho passato un intero pomeriggio a casa sua, è stato un pomeriggio bellissimo, stupendo, purtroppo Rastello ci ha lasciati più di due, un paio di anni fa, in seguito a una lunghissima malattia che non gli aveva impedito però di produrre, di creare tantissime cose, tantissimi viaggi, tantissimi libri. Luca Rastello ha scritto per molti editori, il libro di cui vi voglio parlare si intitola La frontiera addosso ed è stato edito, edito da La terza, ma Rastello ha pubblicato anche per Chiare Lettera, ha pubblicato per Einaudi, si è occupato di migrazione, come in questo caso, si è occupato di narcotraffico, si è occupato di TAV, si è occupato di guerra in ex Jugoslavia, si è occupato di accoglienza, lui era di Torino, dell'accoglienza che c'è stata a Torino durante gli anni della guerra in Jugoslavia, in ex Jugoslavia. Insomma, si è occupato di temi importantissimi, tutti molto molto scottanti e con uno sguardo sempre acutissimo, sempre feroce anche, perché spesso questi argomenti richiedono anche un certo patos, ma, come dicevo prima, se ti puoi permettere di sapere cosa stai dicendo, puoi anche permetterti il patos, puoi anche permetterti la ferocia, se non sappiamo un cavolo di cosa stiamo parlando, potremmo evitare, ecco, di essere feroci in qualsiasi direzione. Il libro è La frontiera addosso ed è un excursus, un va de me, come mi viene da dire, su tante cose che riguardano, di nuovo, l'immigrazione, che riguardano l'Italia rispetto alle politiche migratorie, siano esse di respingimento, di accoglienza. È un va de me, come quasi un dizionario che ci ricorda anche che cosa vogliono dire, oltre che accoglienza e respingimento, che sono molto generiche come tematiche, che cosa vuol dire, che cos'è un cara, ad esempio, che cosa sono i centri d'accoglienza, che cosa sono davvero i centri d'accoglienza, perché alle volte le parole sviano e alle volte sviano molto. E in queste pagine non facili, non facili nemmeno da leggere, non perché sia un saggio particolarmente difficile, tutt'altro, poi Luca Rastello scriveva in modo fantastico, secondo me, difficile perché la politica, la legislazione legata a queste tematiche che non è per niente facile, non è per niente facile districarsi tra le parole che alle volte sembra vogliono dire qualcosa, tipo centro di accoglienza, e che invece tante volte nascondono dentro, nella realtà dei fatti, ben altro rispetto a quello che dicono. Nella frontiera addosso, Luca ci parla della Convenzione di Ginevra, della Carta dei diritti dell'uomo, che sono state dei tentativi di rendere l'Europa occidentale contemporanea, l'Occidente contemporaneo, di darsi una parvenza più umana, parvenza che poi spesso nei fatti, nei fatti reali, quelli che spesso appunto i giornali, quali che siano, ci raccontano molto poco, di cui non ci raccontano quasi nulla, è un va-de-mecum insomma, è un piccolo glossario, un piccolo dizionario, scritto in modo assolutamente accattivante, però non facile, sull'immigrazione, su cosa sono appunto i cari centri di accoglienza, quali sono le politiche, cos'è il diritto internazionale, ci parla anche, all'epoca venne stilato il primo rapporto complessivo sul tema del diritto d'asilo in Europa, commissionato da Caritas e Fondazione Migrantes, ci sono i dati delle istituzioni internazionali, delle organizzazioni non governative, i dati di Frontex, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dopo i primi due libri che vi ho consigliato prima, di cui vi ho parlato prima, che sono due reportaggi in senso stretto, questo è un po' più una visione dall'alto, sullo stesso tema, però con una logica, con un discorso più, da un lato più specifico, dall'altro più generale. Luca Rastello è stato davvero un grandissimo, come lo è stato assolutamente Alessandro Leogrande e come lo è lo stesso Fabrizio Gatti, di Fabrizio Gatti per fortuna possiamo parlare ancora al presente, tre persone diverse, tre giornalisti diversi, tre autori diversi, tre mentalità diverse, ma che, con questi libri e con altri che hanno fatto, che hanno scritto, che hanno realizzato e che io consiglio vivamente di andarvi a cercare, di andarvi a leggere, ci spiegano che il presente è figlio di un passato, il presente è sempre figlio di un passato, non si vive quello che si vive, nemmeno a livello personale, figuriamoci a livello politico, non si vive quello che si vive, perché sta succedendo adesso, e quello che sta succedendo può essere che non sia la cosa peggiore o la cosa migliore, ma che sia soltanto il risultato di qualcosa di iniziato molto prima, e può darsi anche che quello che ci appare squallido sia stato ancora più squallido prima, e sia stato ancora più squallido in momenti in cui ci sembrava che non lo dovesse essere, perché c'era una politica tutta diversa, perché quando ci sono i progressisti al governo certe cose non succedono, e invece probabilmente non è sempre così, perché la realtà non è bianca-nera, perché la realtà, soprattutto la realtà politica, la realtà dell'immigrazione, poi non ne parliamo, un argomento devastante, un argomento vastissimo, la realtà è complicatissima, è molto complicata, ecco perché dovremmo sempre stare molto attenti al di là del cuore, al di là della testa, al di là di cosa ci dicono le emozioni, io ad esempio sono sicuramente per l'accoglienza, ma anche il termine accoglienza vuol dire molto poco se non si sa di cosa si sta parlando. Questi tre libri e tanti altri di questi tre autori e di tanti autori naturalmente, non solo di loro, ci aiutano a capire il presente, ci aiutano a essere un po' più lucidi quando diciamo quella cosa prima non era mai successa, quella cosa è la cosa più bella che potesse succedere, quella cosa è la cosa più squalida, quel politico sta dicendo delle cose inumane, quel politico sta dicendo è così, sì, forse, ma dobbiamo saperne davvero qualcosa di più prima di essere così assolutisti, prima di pensare che quello che sta succedendo oggi a tutti i livelli, non solo per l'immigrazione, sia, come dire, la cosa più grande, la cosa più grave, la cosa più toccante, la cosa più commovente che sta succedendo. I libri ci devono aiutare a questo, anche i romanzi in senso stretto, non soltanto i reportaggi o i saggi. I libri ci devono aiutare insieme a noi, insieme alla nostra testa, perché noi possiamo leggere tutti i libri che vogliamo, ma se non usiamo la testa mentre li leggiamo è quasi inutile. I libri però ci possono e ci devono aiutare a capire le sfumature, a capire le leggi, a capire le regole, a capire che la realtà, dall'amore all'immigrazione, dal sesso alla politica, dal nazismo al comunismo, sono realtà molto, molto, molto sfaccettate, molto complesse, e ciascuna di questi argomenti di cui ho fatto solo degli esempi sono vastissimi e dovremmo riflettere, dovremmo conoscere sempre di più, ogni giorno di più, per sapere anche al bar fare una qualunque battuta di spirito, sarcastica, cinica o goliardica su qualunque di questi temi, soprattutto quando sono temi così importanti, perché se no rischiamo di fare la parte dei fessi pensando di essere dei grandi geni.